Sesta giornata del campionato Under 16, girone palermitano a Campobello di Mazzara si affrontano per la seconda volta a distanza di poche ore, Castelvetrano, Selinunte, Città di Trapani, vittoria esterna per i 2010 guidati da Stefano Pizzitola nel pomeriggio, scendono in campo i 2008 guidati da mister Gianluca, Lupino che dal primo schiera un 4-3-3 con Cenedese in porta, a destra verso sinistra Catania, Ciccio, Luigi Pecoraro e Saeed in mezzo al campo Bonino, Giacalone e Michele Pecoraro in avanti, Quinci, Tumbarello e Salerno, grazie alle immagini a cura di Mario Carpinteri passiamo a raccontarvi del film di questa sfida arbitrata dal marsalese Giacomo Sciacca, dopo 5 giri di lancette, prima occasione di marca Castelvetranese con Michele Pecoraro che serve, Tumbarello calcia con il destro sorvolando la trasversale al dodicesimo, risposta del città di Trapani, la sfera arriva ad Amato, anche il suo destro non inquadra lo specchio e la porta, al quarto d'ora ritorna in avanti il Castelvetrano, Selinunte punizione per l'acrobazia di Tumbarello, facile preda da parte di Loria al diciottesimo, Trapani che si riaffaccia in avanti con la punizione per Amato che non trova l'impatto con la sfera al ventesimo, primo cambio per i Castelvetranesi dentro Interisano in luogo di Michele Pecoraro, due minuti più tardi, sempre Amato a far correre Ravazza, colpisce malissimo il pallone, è un continuo flipper al campo bello di Mazzara col Castelvetrano che si riaffaccia in avanti, Quinci prova ad armare il destro ma calcia male, secondo cambio con Di Maio al minuto 33 che rileva Salerno e Castelvetrano che chiude la prima frazione di gioco avanti con Tumbarello che prova a spingere il re del traversone proveniente dalla destra, ciccando l'impatto con la sfera, va così in archivio la prima frazione di gioco sul parziale d'occhiale, con le nostre immagini siamo già alla ripresa, palla per Grignano che tira bene, Cenedese neutralizza in due tempi, minuto 65 filtrante la difesa, Trapanese si lascia trovare impreparata e Quinci va con il pallonetto per il vantaggio del Castelvetrano, Selinunte cambia il parziale a campo bello di Mazzara, minuto 67 tocca a Lucchese il luogo di Giagalone, tre minuti più tardi Trapani che prova a pareggiare questa partita con un'azione manovrata, percussione sulla sinistra, attento Said in estirata a sventare la minaccia salvando Porta e risultato, 73 tocca a Passanante il luogo di Bonino, città di Trapani che spinge in avanti con la punizione di Patti per la testa ancora di Amato, Cenedese si ritrova lì quasi per caso il pallone, ultimo cambio con Tumbarello che lascia campo a un compagno, non accade più nulla, campo bello di Mazzara, il Castelvetrano Selinunte si impone di misura sul città di Trapani, decide la marcatura di Quincy, un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito, alla prossima!